La candidatura di Vandaferro rappresenta il tentativo di restituire una speranza alla vostra regione. Lo ha detto ieri il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Giorgia Meloni, scesa in Calabria per sostenere la candidatura di Vandaferro a presidente della regione Calabria. Elezioni ormai imminenti con il 23 novembre sempre più vicino. La nostra alleanza non era scontata, ha detto la Meloni, ma fatta sulla persona e sul progetto. Il centrodestra a livello nazionale oggi sia completamente da rifondare, che non si possa riassemblare. Come Fratelli d'Italia non diamo per scontate le alleanze, se non quando ci si presenta un progetto reale di alternativa anche rispetto al renziero unico, a questo Matteo Renzi che vorrebbe essere maggioranza, opposizione, fare tutto lui. Ci piace l'idea di difendere un bipolarismo e lo facciamo con chi è autenticamente alternativo. Qui in Calabria la candidatura di Vanda è una candidatura che noi consideriamo autenticamente alternativa rispetto a Renzi e alla sinistra. Vandaferro in campagna elettorale con un partito guidato da una donna dunque che ha presentato la nuova regione che ha in mente per i calabresi e che cerca l'innovazione con progetti chiari in materia di rifiuti, lavoro, burocrazia ed efficienza. Quelle idee che si possono riconoscere ancora nella destra, che troppo spesso viene abusato per alcuni partiti in termini di nome. Entusiasmo, gioia, serenità ma soprattutto voglia di cambiamento, di una speranza, di riacquisire fiducia e anche la stima per un'azione di coraggio che vede poche liste, poche persone in campo, nessun accordo, quella volontà di far scegliere questa volta solo ed esclusivamente i calabresi per arrivare nella discontinuità totale con un regionalismo che ha fallito a governare a mani libere. Significa rispondere solamente al cittadino, significa non rispondere alle lobby, significa non rispondere all'andrangheta, significa non rispondere neanche ai partiti quando i partiti non fanno gli interessi dei cittadini, significa rispondere solamente a quelli per i quali si vuole costruire un futuro migliore.